c'è una categoria di consulenti finanziari che si chiamano consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede quando nel 2019 è stato istituito l'albo che definiva appunto la categoria dei consulenti finanziari autonomi che poi sono quelli indipendenti cioè fuori dai conflitti di interesse sono stati poi promotori finanziari sono stati classificati come consulenti abilitati all'offerta fuori sede quindi che cosa succede che si è creato un po di confusione perché quelli che prima erano promotori finanziari che quindi tutti sapevano che i promotori finanziari era quella categoria che venivano poi retribuiti dalle banche giusto lo sapevano tutti che i promotori finanziari facevano questo ecco quando si è creato l'albo nel 2019 questi hanno cessato di essere definiti formalmente promotori finanziari e hanno cominciato a essere consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede quindi che cosa può succedere che alcuni di loro possono dire che sono consulenti finanziari togliere l'ultima parte cioè non aggiungere abilitati all'offerta fuori sede quindi si presentano a te ti dicono guarda io sono consulente finanziario e non e non aggiungono abilitato all'offerta fuori sede perché poi tu gli chiederesti cosa vuol dire abilitato all'offerta fuori sede e scatterebbe un problema perché dovrebbero spiegare che non vengono pagati da te vengono pagati da un istituto finanziario da una banca che è il lavoro tipico del promotore finanziario marco montemagno con i quali ero nulla di personale però ha ricevuto il mio libro ha letto il mio libro quindi sa che esiste la categoria dei consulenti finanziari indipendenti conosce l'etica a cui si devono attenere conosce bene questa differenziazione che io ti ho appena specificato lui questo lo sa eppure eppure che cosa fa marco montemagno fa una rubrica sull'educazione finanziaria sull'alfabetizzazione finanziaria dove si spiega alle persone come devono investire e con chi lo fa con dei promotori finanziari con banca generali che ha una delle reti di promotori finanziari più capillari in italia persone che non hanno l'obbligo di assenza di conflitti di interesse a dire vero hanno conflitti di interesse lo vediamo che conflitti di interesse hanno questo è uno studio che è stato fatto nel 2021 dove si vedono i costi di 40 fondi di banca generali banca mediolanum fineco azimut eccetera banca generali che è l'istituto al quale con il quale montemagno ha fatto questa partnership fa pagare il 3,15 per cento medio sui propri fondi e già come numero ti puoi immaginare che è tanto perché se la borsa nel suo insieme che già di per se stessa è molto complicata da battere fa il 7 per cento questi li fa pagare il 3,15 per cento si fa pagare quasi la metà di quello che può produrre la borsa da sola infatti poi vedremo i risultati finali quali sono queste due screenshot che secondo me sono molto importanti li ho presi direttamente dall'albo dei consulenti finanziari se tu vai nell'albo dei consulenti finanziari organismo ocf ocf è l'organismo dei consulenti finanziari e tu puoi andare a cercare con nome e cognome un qualunque consulente finanziario e nella sezione albo ti apre una tendina e hai quattro opzioni una è tutto cioè puoi fare una ricerca e ricerchi qualunque esso sia oppure puoi cercare i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede quelli che ti dicevo oppure puoi cercare i consulenti finanziari autonomi che anche qui una piccola storpiattura non so perché l'abbiano fatta sono gli autonomi sono gli indipendenti quelli a cui per legge si richiedono requisiti di indipendenza che non possono avere legami di alcun tipo con banche con reti con istituti finanziari possono lavorare solo esclusivamente a parcella col cliente quindi l'unico interesse che devono fare è quello del cliente perché vengono pagati dal cliente non possono avere altri interessi con altri soggetti di alcun tipo ok questi sono gli autonomi e poi ci sono le società di consulenza finanziaria che sono semplicemente consulenti finanziari indipendenti che si mettono insieme fanno una società ok sono società di consulenza finanziaria quindi si chiamano scf messo così sembra che la differenza sia minima cioè la differenza tra consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e consulenti finanziari autonomi sembra sì vabbè una piccola differenza non è una piccola differenza ma per niente allora prima di tutto io faccio notare questo sono io trovate che io sono consulente finanziario autonomo poi vedi che ho cercato un consulente di banca generali spa chiaramente non ho messo il nome perché non ci interessa questo consulente come tanti altri che lavorano per banca generali spa è consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede la differenza la voglio ripetere perché è veramente molto importante l'indipendente per legge non può avere conflitto di interessi e può venire retribuito solo esclusivamente dal cliente stesso e quindi ovviamente farà gli interessi del cliente non ne potrà far degli altri mentre quello abilitato all'offerta fuori sede che in realtà è un promotore finanziario a tutti gli effetti solo che gli hanno cambiato il nome loro vengono pagati dalle banche da dove le banche prenderanno i soldi per pagare questi benedetti abilitati all'offerta fuori sede beh da quello che abbiamo visto prima da qua da questo 3,15 per cento da qui dentro da questo 3,15 per cento nel caso di banca generali che il caso per esempio con cui sta adesso collaborando marco montemagno ci sono anche le percentuali degli altri asimut per esempio ancora più alto 3,34 per cento da qui dentro bene viene scorporata una parte e viene girata ai consulenti appunto abilitati all'offerta fuori sede che possono arrivare da te tu dici voglio investire in borsa ho bisogno di una guida o meno di qualcuno che mi aiuti questi vengono dati guarda io ti aiuto gratis e tu se dici cazzo figo quindi c'è un giro di denaro tu investi i tuoi soldi dai tuoi dal tuo investimento viene prelevato del denaro questo denaro una parte se lo tiene la banca una parte viene girato all'abilitato all'offerta fuori sede quindi l'abilitato all'offerta fuori sede per chi sta lavorando cioè di chi farà l'interesse o di chi sarà portato a fare l'interesse della banca e magari di se stesso perché più fa l'interesse della banca più porta una percentuale più alta alla banca più sarà cospicua la parte sua come nelle reti commerciali in questa attività di marketing pesante infatti poi l'iniziativa di marco montemagno ha un errore di base perché viene portata avanti con degli interlocutori che non sono neutrali come fai avere la garanzia che le informazioni che ti danno non sono in qualche modo fuorviate dal loro interesse non hai questa garanzia garanzia che con un indipendente o con per esempio il presidente il vicepresidente di una delle principali associazioni la nafop dei consulenti dipendenti avresti cioè non è che non è che montemagno doveva chiamare davidio non è che mi sono offeso perché montemagno non ha chiamato me vabbè mi poteva almeno ringraziare che gli ho mandato il libro quello vabbè fa niente non me la leggo al dito dai quella ti perdono però io dico cioè potevi chiamare magari a fare una cosa del genere per esempio cesare armellini il presidente dei consulenti indipendenti dell'associazione nafop non posso parlare per lui ma sono quasi certo che sarebbe venuto a fare una rubrica oppure luca mai no sempre dell'associazione nafop cioè queste sono le persone che montemagno avrebbe dovuto chiamare non banca generali se voleva garantire in maniera assoluta un'educazione finanziaria neutrale in assenza di conflitto di interessi cosa che non ha fatto e perché non l'ha fatto perché lui la chiama partnership cazzo ma lui è anche bravo con le parole tu dici la partnership adesso siamo in partnership con banca generali che cos'è una partnership probabilmente sarà che lo pagano premesso che non ci sarebbe nulla di male che banca generali paga qualcuno per farsi pubblicità